Continuano le iniziative di Natale al San Luca, il programma di appuntamenti voluto dal direttore sanitario Adriano De Vita e dal direttore amministrativo Antonio Flavio Meola. Ieri è stata la volta di Babbo Natale in Corsia, un evento che ha allietato in particolare i più piccoli ricoverati nel reparto di pediatria. L'organizzazione è stata cura del CRAL dell'ex ASL Salerno 3, che replicherà il prossimo 18 dicembre. Nell'Aula Magni, infatti, è previsto il tradizionale concerto di Natale del coro Vivat di Lentiscosa, diretto dal maestro Gaetano Toriello. Il coro è nato nel 2012 per volontà del maestro dell'orchestra Scarlatti Gaetano Russo. Si esibisce per la prima volta nel 2013 con l'orchestra Scarlatti nel concerto di Pasqua a Lentiscosa. Seguono altri appuntamenti, sempre con l'orchestra Scarlatti al Museo Diocesano e nelle catacombe di San Gennaro a Napoli. Il coro, inoltre, è presente nelle liturgie dei santuari più importanti d'Italia, come la Basilica di San Francesco ad Assisi, quella di Loreto, Pompei e anche nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. Il maestro che la dirige, Gaetano Toriello, è stato professore d'orchestra presso il Teatro San Carlo di Napoli, in qualità di trombonista e successivamente presso l'orchestra Rai di Napoli, solista nelle bande da giro e insegnante presso la Scuola di Camerota.